scende dai colli fioriti una dolce canzone mi chiamo Leila, piacere si rinnesto, questo è liquido, lo metto si mette il caio in un pochino d'acqua, si mischia, si aggiunge al latte e si lascia riposare per mezz'ora dopo mezz'ora si taglia in tre tagli verticali e tre tagli orizzontali si lascia riposare dieci minuti con le mani si sbriciola un po' e si riscalda e si porta a 40 gradi quando è in freddo, quando è in inverno si mette delle coperte ora metto solo un panno d'inverno per mantenere la temperatura mentre le bocchie assetate si baciano ancora e si aggiunge l'acqua a 80 gradi e ora si lavora poi lo divido e le fai due? si, con 9 litri questi sono 9 litri di latte 9 litri? 2 scamorze 9 litri di latte si vuole fare la mozzarella si fa a questo modo si? si qui si fa tipo una mongolfiera però è una lavorazione un po' diversa ora noi rifacciamo un po' e rifacciamo la nostra scamorza no, a volte le faccio le mozzarella intanto è super gialli l'impasto è lo stesso però ti piace di più sta mozzarella? si conserva di più la mozzarella, la devi usare subito quindi fai una pallina, poi si dà la forma di testa poi più tardi la mettiamo in acqua e sale per due ore non lo so scrive di per me dammi un bacino d'amor me ne andrò via fior donni fiorè fior è un filo mio non lo so scrive di per me 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 non lo so scrive di per me